Buonasera, benvenuta o benvenuto in questo nuovo video ASMR. Come ogni sera, siamo in live sull'app Viola, da lunedì al giovedì. Il pomeriggio puoi trovarmi live anche su TikTok, dalle 13.30 alle 11.00. Nel weekend, se ne avrà voglia, il signor Franco farà le live qui su YouTube. Se hai già visto una live del signor Franco, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. In questo video andrò a coccolarmi. Mi coccolarò col mio pennello. Per chi non lo sapesse da due settimane che mi trovo in Germania ormai, questa è la mia nuova postazione. Mi trovo nel ladrio di una cucina. Questa è la mia nuova postazione. Riesco a streamare e registrare tutto con un MacBook iRM1, ve lo dico per i più appassionati. Come microfono ho il Blue Yeti vecchio e ho anche il Tascam con il quale prossimamente registrerò degli altri video per il canale. Abbiamo applicato dietro delle lucine. In vecchio, in onore dei vecchi tempi, diciamo, delle live della Sicilia, della Baita. Questa è la postazione, tra virgolette, serale. Poi magari registrerò altri video dalla postazione il pomeriggio. Quindi l'effetto, diciamo, scenografico sarà diverso. Ora vando alle ciance. Fatti coccolare. Non perdere di vista il pennello. Non perdere di vista il pennello. Danno un'accento. E' ferma l'intro'. Tic, tic, tic 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 Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic Buonasera in tanto, qui sta entrando sulla viola, buonasera Ricky, buonasera Cristiano Vi ricordo che se volete supportarvi potete abbonarvi gratuitamente con una sub appunto gratuita con Amazon Prime Me ne sarò molto molto grato Grazie Chiudi gli occhi, lasciati trasportare dalle... su, dal brush, che sa... Brushic sound Brushic sound Brushic sound Brushic sound Sì 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 Adesso faccio un conto alla rovescia Sì 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 Ciao E frattempo grazie a Sofi per esserti iscritta al canale Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e un commento se non sei ancora iscritta al canale iscriviti ci vediamo nel prossimo próximo video Grazie.